Siamo riusciti a riprenderla. Vieni Felicina, anche con l'aiuto di Nalu. E questa è la sua gabbietta col fieno e la sua pappa. La riapriremo domani mattina, sperando, quando c'è tanta neve, noi sempre si mette lì, ma riparo che l'abbiamo preparata. Poi abbiamo un terzo animale, un altro malchettino, che però vive con mia figlia, mio genero e bambini, al piano di sotto, che si chiama Walsh, il nome che hanno dato i bambini. È stato portato via, insomma, è stato portato via dalle persone che lo sfruttavano per fare degli spettacoli. ed è stato, insomma, ce l'hanno dato con delle garanzie, venendo a controllare. Adesso è con noi oramai da due anni. Abbiamo fatto il giro di tutto il giardino, non vi ho fatto vedere l'orto, perché adesso non c'è più niente, a parte nella terra chiusa dove abbiamo ancora un po' di insalata e riposte. Vieni, Nalu, dai, vieni presto. Forza, vieni. Ciao, a presto.